Salve, eccoci a questo approfondimento in materia di appalti, un tema ricorrente nel settore dei contratti pubblici che è quello del cosiddetto autovincolo di gara. Spieghiamolo prima di vedere la sentenza, che è un consiglio di Stato, quindi una sentenza importante per capire la normativa. La disciplina in materia di contratti pubblici è contenuta in direttive comunitarie e nel codice dei contratti, il decreto legislativo 36 2023. Questa contiene la normativa che regola le procedure di gara. Poi le stazioni appaltanti possono avere dei regolamenti, il ministero dei decreti ministeriali, norme generali ed astratte. Quando la stazione appaltante pubblica un bando di gara, inserisce nei documenti di gara, nel disciplinare, nel capitolato, in tutti i documenti di gara, delle disposizioni che potrebbero prevedere determinati requisiti o determinati procedure, step. Bene, in questo caso questi atti si chiamano l'ex specialis, termine latino, che sta a indicare che, pur non essendo una legge in senso formale, ma sono atti di gara, rappresentano un vincolo per l'azione amministrativa. Cioè, se la stazione appaltante, pur non essendo tenuta, ha scritto nel bando di gara che c'è un certo requisito, può poi disattendere questa indicazione? Questo è il concetto fondamentale legato al tema del cosiddetto autovincolo di gara o l'ex specialis degli atti di gara. Vediamo la sentenza della sezione quinta del Consiglio di Stato, la numero 4659 del 24 maggio 2024, cosa ci dice e di che cosa tratta. Partiamo con il fatto che con determina a contrarre del giugno 2023 il Comune di, non importa, disponeva di affidare in via diretta un accordo quadro del valore di 150.000 euro, inerente ai lavori di segnaletica stradale. 150.000 euro, la soglia dell'affidamento diretto attuale, qui siamo nel vecchio codice dei contratti, o meglio, siamo nella disciplina transitoria, decreto legge 76-2020, che aveva già elevato a 150.000 euro la soglia di affidamento diretto durante il periodo emergenziale, quindi il Comune coglie l'occasione dell'innalzamento della soglia da 40.000 a 75.000 e poi a 150.000 per fare un accordo quadro. Che cos'è un accordo quadro? È un contratto con il quale io non compro 150.000 euro di segnaletica stradale, dove la depositerei? Mi servirebbe un magazzino enorme, ma compro per un anno, due anni, tre anni, la possibilità di avere la segnaletica, quindi ogni volta che mi si rompe il palo dello stop, chiamo la ditta e gli dico portami il palo dello stop e questa toglie dai 150.000 euro la somma di acquisto e installazione, prevalentemente installazione, quindi l'accordo quadro mi dà quella flessibilità per poter acquistare un qualcosa di cui non ho conoscenza immediata. Se ho bisogno di un software so comprarlo subito, se ho bisogno delle risve di carta le uso subito, ma se ho bisogno della segnaletica non so quale si deteriorerà, romperà oppure se realizzo nove strade quella di cui ce n'è bisogno. Fatto questa premessa, vince il contratto di appalto la società SMS. La società che ricorre, la seconda arrivata, lamenta che pur essendo previsto espressamente nella lettera di invito alla procedura la possibilità di ricorrere a subalpalto, quindi la stazione appaltante ha detto io voglio fare un contratto quadro, puoi subappaltare giustamente, perché? Perché il fornitore potrebbe essere bravo a installare la segnaletica, quindi a fare le buche nel terreno, cementare il palo, magari non ha la possibilità di costruire, realizzare il bene e quindi può subappaltare. Attenzione, nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto relativo ad un'unica categoria. Ricordo che nel momento in cui era stato introdotto questa disposizione non esisteva la liberalizzazione di subappalto, siamo nel vecchio codice, siamo nel decreto 50 più il decreto semplificazione 1, quindi limite al subappalto al 40%. In questo caso la stazione appaltante ha previsto un limite del 49,9%. La società SMS non aveva rispettato tale previsione, rendendo nel DGUE una dichiarazione con la quale evidenziava la propria volontà di ricorrere a subappalto nella misura del 50%, cioè per 0,01% in più. Ridicolo, quasi impercettibile come variazione, però c'è un giudizio al TAR, c'è un ricorso. Quindi la seconda arrivata dice, poiché hai offerto un subappalto al 50% e l'ex specialis, il bando di gara, prevedeva il massimo del 49,99%, devi essere esclusa. Il TAR Toscana accoglieva il ricorso sulla base appunto di questa censura, ritenendo sufficiente rilevare che la lettera d'invito prevedeva espressamente il subappalto, mentre la SMS non aveva rispettato tale previsione e con conseguente violazione dell'ex specialis, vedete il termine utilizzato. Il collegio di prima istanza disponeva l'annullamento della determina che aveva giudicato la procedura con inefficacia dell'accordo quadro sottoscritto e obbligo dell'ente di rinnovare le operazioni di aggiudicazione e poi eventualmente aggiudicare alla seconda se ci fossero i requisiti. Il Comune fa appello al Consiglio di Stato, sostenendo una serie di motivazioni. Andiamo a vedere il punto saliente in diritto. Tralasciamo gli aspetti processuali dell'interesse ad agire, dell'interesse a ricorrere. Appare all'evidenza che la Lex Specialis ha espressamente consentito il subappalto nei limiti del 49,99% incontestato, così introducendo una previsione di, virgolette, auto-vincolo. Nonostante ciò, nell'ambito dell'offerta, la società ha scritto 50%. Dal processo risulta che il preventivo dell'aggiudicatario reca un ribasso di oltre il 50%, come risulta dall'offerta economica, mentre la dichiarazione di subappaltare le opere oggetto dell'unica categoria reca un ribasso del 50%. Il Collegio, il Consiglio di Stato, osserva che le ampie deduzioni difensive, anche in tema di subappalto necessario, del Comune appellante, finalizzate a giustificare la regolarità dell'affidamento diretto, non colgono del segno, quindi dà torto al Comune, atteso che alla soluzione della questione deve pervenirsi partendo dal presupposto che nella Lex Specialis la stazione appaltante ha previsto un autovincolo. Orbene, secondo il principio dell'autovincolo, la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che ha deciso di porsi. Non può non sindacarle successivamente, anche se è assurdo lo 0,01%. Il rispetto dell'autovincolo, giova ribadire per ragioni di completezza, è confermato anche dal vigente Codice dei Contrati. Ecco perché è importante la sentenza, non parla solo del passato, parla anche del Codice Attuale, che tra i principi fondamentali annovera quello dell'affidamento e della buona fede. Il nuovo Codice non parla di autovincolo, ma affidamento più buona fede fanno sì che si applichi anche alla normativa attuale il principio della Lex Specialis come autovincolo. Il Comune ha individuato un criterio di affidamento in forza del principio dell'autovincolo e quindi l'autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità che l'amministrazione pone a sé medesima in forza di una determinazione frutto del potere che si appresta a esercitare e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità. Nel Collegio ritiene di superare l'altro principio corollario dell'autovincolo secondo cui la Lex Specialis deve essere interpretata in termini letterali, altro principio fondamentale, cioè non solo la Lex Specialis che prevede un autovincolo va rispettata, ma la Lex Specialis non può essere interpretata in senso estensivo né tantomeno analogico, ma in termini restrittivi perché? Perché è una deroga al principio che la regolamentazione è nella Lex, non nella Lex Specialis. Ne consegue che la violazione della Lex Specialis determina l'inefficacia dell'accordo sottoscritto, l'annullamento della determina con cui è stata disposta la giudicazione. In definitiva l'appello va respinto con assorbimento di ogni altra censura e conferma della prima sentenza, la sentenza impugnata. Anche questa quindi una sentenza utile, jolly diciamo, da utilizzare nello studio in concreto dell'appalto, si ricava dal vecchio codice, dal nuovo codice, ma soprattutto dalla giurisprudenza. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci.